Allora, come stanno questi ragazzi intanto, perché insomma per queste due partite ravvicinate mi sa che un po' si sentano nei muscoli e... Abbiamo visto nell'ultima partita, avevamo delle indisponibilità che a tutt'oggi alcune sono confermate, altre stiamo cercando di recuperare qualcuno se non per domani magari siamo in questa fase dove ripete che non ci aiutano queste partite ravvicinate però è così e dobbiamo essere bravi a essere all'altezza soprattutto della partita che ci aspetta domani Ecco, mi sembrano, un po' ritornando dietro al termo, che la squadra dal punto di vista mentale abbia una prova importante, perché insomma anche nel momento difficile quando gli avversari sono andati vicino a far gol e il Siculino ha fatto un paio di miracoli non hanno però mai perso la bussola, non hanno mai perso... Quella è stata un po' la forza dell'ultima partita, insomma, quante difficoltà anche per il regito degli avversari che certamente era una squadra in salute, di qualità è riuscita a rimanere in partita, dicendo poi a fare già una partita che come se era messa non era facile, perciò caratterialmente sotto l'aspetto dell'impegno, del cuore, dell'anima io penso che la squadra sta dimostrando in queste ultime partite di esserci il problema è giocare sempre in modo da avvicinato, magari questa concentrazione deve rimanere soprattutto perché poi giochiamo in casa e contro l'avversario certamente di valore però insomma noi adesso cercheremo, in questi due o tre giorni abbiamo cercato sia di recuperare le forze e di ripreparare questa partita che ci aspetta un altro impegno difficile, ostico perché giochiamo contro degli avversari che vengono da tantissimi risultati utili di testimonia che è una squadra organizzata che dispone di ottimi giocatori, ben allenata di conseguenza insomma ci aspetta un'altra partita difficile, bella e noi dobbiamo dimostrare di meritare insomma le ultime conferme e anche la fiducia che in questo momento ci sta dando un po' tutto l'ambiente sono due minori che comunque, certo, le vittorie fanno piacere e in classifica portano punti, io credo anche che si debba comunque dare una continuità ai risultati ecco sì, chiaro che la vittoria sarebbe oro, ma insomma anche in queste due partite cercare comunque di non scampare dalla sconfitta comunque e cercare di tenere il passo anche di altre squadre che sono nel gruppo, ecco capito, la volontà è quella, insomma, è normale che non è che si va in campo per pareggiare o si va sempre in campo per cercare di far bene e magari di vincere però la continuità dei risultati in questo momento è fondamentale perché poi da continuità, da modo a tanti giocatori sia di recuperare che di migliorare la condizione perciò, dentro del primo giorno, più tempo riusciamo a guadagnare e più possiamo diventare una squadra che può giocarsela veramente con tutti in questo momento un po' di problemi sotto questo aspetto abbiamo però, insomma, dobbiamo subire a tante cose attraverso, insomma, l'atteggiamento, la volontà anche il canone dei nostri tifosi, insomma, in questo momento siamo una squadra che ha bisogno di qualcosa che però deve venire di dare sul campo perciò sta a noi soprattutto cercare di affrontare anche questo impegno nel modo giusto come abbiamo fatto sotto questo aspetto nelle ultime partite Prima parla dei giocatori da recuperare, Susciu c'è possibilità? C'è Susciu, Paolini, Bocic, insomma, diciamo che forse quello meno in questo momento recuperabile può essere Bocic, però, insomma, perché non dobbiamo guardare solo domani, dobbiamo guardare anche un pochettino più avanti l'importante è che poi avere a disposizione questi giocatori diciamo che comunque, in quell'aspetto degli attaccanti recuperiamo anche pensavo perciò, insomma, un'atteggiamento in più l'abbiamo e perciò questo momento purtroppo è così Il Massimo comunque sta bene Il Massimo si è avuto un problema anche lui dopo la partita però mi sembra che abbia recuperato nelle ultime ore anche stamattina in allenamento questo mi sembra che stia abbastanza bene Ecco, dicevo un po' prima degli avversari della Caldalaresi di sua qualità c'è qualcosa in particolare di loro che la preoccupa maggiormente? Eh, lo diciamo intanto è il vantaggio di una squadra che da tanto i risultati lo testimoniano che ha consolidato un certo tipo di gioco quando consolidi quelle cose lì significa che poi emergono anche i valori individuali c'è diversi attaccanti, possibilità in avanti c'è un centro campo di qualità e anche di forza c'è una difesa che sta lavorando molto bene perciò giochiamo contro una squadra che in questo momento è squadra e perciò bisogna essere preparati e pronti ad affrontare un avversario di quel tipo questo non significa che, come ho sempre detto noi cerchiamo anche di preparare la nostra partita non è che ci allaggiamo solo sugli avversari però teniamo conto anche delle qualità con cui, con la squadra con cui andiamo ad affrontare perciò questa sta facendo un campionato e i risultati importanti perciò noi, però noi nella nostra situazione dobbiamo guardarlo però poi dipende molto da quello che riusciamo a fare nel nostro campo perciò l'attenzione lì è più di volta anche nel preparare la squadra ad affrontare sia i problemi ma anche a cercare di creare difficoltà agli avversari io ho una convinzione che è un ruolo fondamentale sia il portiere e questa cosa l'avevo così fatta notare anche alla vecchia primità proprio in una delle prime interviste che abbiamo rilasciato che mi hanno rilasciato nel settembre scorso e io ho sempre un po' preoccupato perché i ragazzi giovani non siano bravi ci sono due portiere ma perché un portiere d'esperienza mi dà più tranquillità ecco, è stata una sua richiesta prima di venire oppure è stata una scelta del direttore? no, con il direttore ci confrontiamo spesso lui sa come la penso io so come ragiona lui insomma, cercavamo abbiamo cercato e non pare in una situazione di questo tipo anche io negli anni passati ho giocato con il portiere giovane e noi abbiamo due giovani bravi però ci può stare che i giovani abbiano commettono qualche errore in più rispetto a un altro non significa che il portiere d'esperienza non possa commettere l'erone anzi lo può fare chiunque però già mettere una certezza lì insomma è una cosa e dare un certo consolidamento a una squadra come potrebbe essere la parte centrale come può essere l'attacco insomma quando costruisce una squadra vi avrete i numeri in attacco per mettere qualità in mezzo quindi insomma tutta la verticale come si diceva una volta insomma diventa fondamentale quindi io mi definivo come si diceva una linea questo non significa non bisogna togliere valore i nostri giovani perché sono giovani che potrebbero avere anche una prospettiva futura però insomma nella nostra condizione abbiamo fatto questo tipo di valutazione che non era facile poi provare anche l'elemento giusto partiamo da cioè noi eravamo anche noi siamo in una situazione precaria perciò anche i giocatori prima di venire insomma al tango delle loro valutazioni no ma peraltro il nostro ex portiere di circa venti anni fa ora senza fare nomi è stato allenatore dei portieri anche di secoli e ne ha parlato in termini veramente positivi di questo ragazzo quindi ecco abbiamo anche delle referenze buone no no certo no no ma io lo sto conoscendo adesso come ragazzo come giocatore perciò siamo all'inizio è un giocatore che sta dando un contributo importante mi auguro che posso sconturare però i simboli adesso il portiere è un pochettino diverso però come ho detto prima io sono convinto che se la squadra c'è che disse ad avere la propria struttura una propria identità da acquisire poi emergono anche i valori individuali che ci possono essere in queste squadre che ci sono però quando le cose vanno male magari non c'è questi riscontri poi anche chi potrebbe avere delle qualità emergono più i difetti che i pregi invece quando se le cose si riescono a dare equilibrio emergono più i pregi che i difetti insomma sono piccoli io volevo aggiungere un'altra riflessione sta per necessità mettendo tanti giocatori magari in dei ruoli che non sono quelli canonici loro ecco da questo punto di vista c'è qualcuno che la sorpresa più degli altri o che insomma sta rendendo magari oltre adesso non è il momento di fare queste valutazioni perché magari fanno un complimento a uno poi magari chiede a lui ma noi in questo momento come hai detto tu qualcuno viene anche penalizzato è venuto questo è insomma consapevole siamo in una situazione che tantissime siente da qui in avanti probabilmente avremo l'opportunità di fare valutazioni diverse e mettere i giocatori nel ruolo più congeniale però già questo aspetto che magari un giocatore si sacrifici in un ruolo non prodottivamente suo è una cosa positiva è una cosa da apprezzare significa che la squadra sta sposando un attimino la causa che tutti vogliono venire fuori o trovare delle soluzioni per venire fuori da questa situazione accettando anche magari a volte di non fare figure bellissime però insomma diciamo che hanno hanno comunque dato dignità comunque alle loro prove con l'impegno con l'atteggiamento di conseguenza vediamo insomma vediamo da qui in avanti e senza io volevo dirgli eh dati a primi minuti di Teramo sono stati un po' diciamo abbiamo visto un blackout della squadra poi i primi cinque minuti poi la squadra si è ripresa c'è stato un cambiamento di modulo o è stato era per il modulo di partenza che ci sono stati questi problemi non è stato un approccio a livello mentale approccio no perché i primi minuti siamo partiti benissimo eh fino a dopo non abbiamo subito il gol che il gol purtroppo stiamo valutando anche io abbiamo lavorato su soluzioni diverse per evitare quei tipi di gol che sono troppo frequenti poi avevamo impostato effettivamente la partita in un certo modo che però anche per caratteristiche di alcuni giocatori non riuscivamo a fare col cambio di modulo magari abbiamo avuto un atteggiamento un pochettino migliore però era sempre una partita che stavi perdendo di conseguenza non hai avuto i vantaggi che potevi ottenere però insomma alla fine ci ha premiato comunque quindi domani si gioca col secondo modulo domani vediamo che gli avversari già giocano diversamente noi abbiamo valutato alcune cose in questo io non sono molto propenso a modificare queste cose però noi siamo talmente in una situazione così di emergenza che ci dobbiamo una linea adeguare devono essere tra anche i giocatori però quando ti venghi se puoi lì a sfruttare le caratteristiche dei giocatori meno male insomma troppi disagi non li puoi avere ecco anche se a me onestamente mi è più piaciuto perché allora quello il tifoso del bar dice si poteva far così cosa però è altrettanto vero che un allenatore deve insegnare come si fa quella cosa deve insegnare come si fa quell'altra cosa non è che quella la domenica arriva lì e dice alla squadra oggi facciamo così perciò ci vuole il lavoro e solo attraverso il lavoro si impara a diventare padroni di un di un modo di giocare di un altro però insomma stiamo valutando tutte queste cose grazie 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 a voi tutto bene grazie 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 Grazie.